buongiorno a tutti dai k1 vhx da genova qui c'è un po di ferri per terra e sto facendo il collaudo dell'ondina 33 allora c'era già un problema perché la bobina di disaccoppiamento della nodica si era interrotta ho dovuto rifarla tutta e però è venuta anche meglio perché adesso è un millenri e mezzo prima era meno disaccoppia di più allora questo è link rf di prelievo sull'uscita c'è un wattmetro passante che con trimmer regola la sensibilità la bobina dell'oscillatore la 6 l6 non ho idea di che su che frequenza stia oscillando perché c'è un variabile da dieci pico e basta penso che vada su parecchio di frequenza poi calibriamo un po il centro band allora vediamo come cosa succede allora alimentatore qui è acceso accendiamo qua notiamo i 09 ampere circa del filamento la valvola si sta accendendo qui abbiamo il soft start dell'alimentatore anodico ecco la lampadina diamogli tempo che si scaldi un po la valvola vediamo se trasmette già ho messo un carico da 50 ohm qui sull'uscita e regolato un po la sensibilità del wattmetro milliamper di enodici sono sui 70 miliamper perfetto per la 6 l6 assorbe sui introsmissione quant'è qui 4 ampere 2 ampere circa SOS dal pack aiutatemi eccoci qua eccoci qua eccoci qua